che fosse già stato installato c'è stato un momento di panico e adesso il professor ubertalli viene perché quello che vi farò vedere è un mini filmato che la porzione di un filmato diciamo per l'ingegneria meccanica allora io in particolare di cosa mi occupo io mi chiamo Francesca Curà insegno meccanica da sempre dalla notte dei tempi quando ho iniziato qui in Politecnico di fatto mi sono sempre occupata di costruzione di macchine quindi come si dice in gergo un meccanico sono un meccanico freddo quindi significa che non mi occupo di motori e di combustione quindi di energia ma mi occupo di fatto di trasmissioni infatti quello che vi presenterò è un filmato sul sull'autoveicolo ma l'autoveicolo perché perché è quello che a voi a noi sembra più naturale quindi partire dire che cos'è una trasmissione partendo dal veicolo ma nella realtà le stesse trasmissioni che sono composte da un tot di elementi delle macchine possono andare su tantissimi altri gruppi che possiamo definire meccanici beh la classica trasmissione aerospaziale complicatissima perché una trasmissione di potenza con dei grossi vincoli di peso un'altra trasmissione tanto in voga oggi è quella tipica delle generazioni eoliche tante pale quelle normi pale sono comandate da trasmissioni meccaniche io ad esempio ho lavorato con degli ingegneri spagnoli per dei problemi su delle trasmissioni meccaniche di un parco di turbina quindi cos'è una trasmissione è qualcosa che deve trasmettere la potenza quindi partiamo da un motore quindi qualcosa che spinge tra virgolette poi c'è una grossa black box fatta da un sacco di cose e poi c'è l'utilizzatore che può essere la ruota del veicolo che può essere la pala della turbina che può essere l'aereo cosa cosa fa l'ingegnere meccanico l'ingegnere meccanico al povero ingegnere di solito viene richiesto tutto a tu sei un ingegnere non sai aggiustare la lavatrice io non l'ho mai aggiustata non sai aggiustare la televisione non ne ho la più pallida idea l'ingegnere deve sapere perché deve usare l'ingegno l'ingegnere meccanico in particolare è volto più alla meccanica una volta si diceva l'ingegneria meccanica è la più generale ma un pochino è vero nel senso che l'ingegnere meccanico fa un po di tutto però oggi ci sono un sacco di altri percorsi che sono generali allo stesso modo perché per fortuna vostra l'utenza può scegliere tante cose diverse proprio perché la meccanica non è l'ultima non è l'unica ovviamente voi pensate a un percorso di laurea triennale no siete uscite dalla dalla scuola superiore anzi facciamo gli scongiuri avete la maturità di qualunque diciamo tipologia sia e fate una scelta universitaria beh intanto ingegneria è una scelta particolare perché comunque una facoltà pesante è una facoltà che vi fa lavorare che cosa però di buono questa scuola che è molto ben organizzata allora è chiaro che siamo in un mondo reale quindi ci sono anche dei problemi nella nostra università ma sono molto minimi rispetto ad altre università e facoltà questo me lo dite voi cioè me lo dicono i tantissimi ragazzi che che io ho avuto come studenti come tesisti quindi qui abbastanza tutto organizzato venite buttato in questo primo anno che è un po generale per tutti e poi man mano già dal secondo anno già da corsi come fondamenti di meccanica strutturale voi cominciate a vedere la meccanica la meccanica come come strutture quindi voi cominciate a studiare le strutture o meglio come progettarle cosa vuol dire progettarle vuol dire che se partite da un foglio bianco dovete inventarvele a voi non sarà richiesto questo forse neanche la magistrale però il concetto è questo voi avete dei dati di partenza e dovete realizzare un qualcosa giocare con un qualcosa quello che invece gli studenti di solito soprattutto della triennale sono più portati a verificare cosa vuol dire vuol dire io un oggetto o una trasmissione un gruppo meccanico poi se arriverà il filmato lo vedremo avete un gruppo meccanico e dovete vedere se regge cosa vuol dire se regge vuol dire se quel gruppo quell'insieme di oggetti che di solito sono in movimento perché l'ingegneria meccanica non è la civile non è il ponte fermo è qualcosa di simile ma che si sta muovendo ecco bisogna andare a vedere se quella cosa sopporta i carichi per i quali è stata progettata quindi sopporta dei carichi come si dice statici fermi quindi un sovraccarico una vibrazione improvvisa un sovraccarico che uno non si aspetta può essere un carico cosiddetto statico fermo mentre invece il cosiddetto carico in movimento è quello che tutti noi sopportiamo nella vita e anche il componente quindi come il componente regge tutti i giorni della sua vita ai carichi che gli sono stati affibbiati e non solo alle ore che andrà a funzionare quindi questo è quello che voi comincerete a a fare già nel secondo anno e poi al terzo anno chiuderete un po' le fila io insegno elementi costruttivi delle macchine che è la costruzione di macchine per la triennale cosa vuol dire vuol dire ingranaggi vuol dire supporti cuscinetti vuol dire prendete una trasmissione quella che potete avere in un apparecchio di sollevamento può essere un cambio di un veicolo un cambio ingranaggi può essere un riduttore epicicloidale in una trasmissione eolica e andrete a imparare a valutare quanto dura quanto vive quella trasmissione in quelle condizioni di carico da una parte cioè non deve rompersi non deve danneggiarsi ma deve anche vivere bene cioè deve lavorare bene vi faccio un esempio stupido che però rimane sempre in testa rimane in testa gli studenti ma perché è rimasto in testa a me e quindi vi comunico questa cosa che io avevo trovato abbastanza strabiliante quando appunto avevo lavorato in spagna con questi ingegneri loro nella trasmissione eolica non andavano a vedere quanto dura perché loro sostituivano i componenti dopo vent'anni uno dopo vent'anni può ancora funzionare così bene no assolutamente no avrà sicuramente degli acciacchi ogni componente sarà un po rovinato quella ma siccome nelle turbine eoliche nei parchi eolici non importa se fa se c'è rumore non è come il veicolo che deve essere silenzioso non è come l'aereo che deve essere silenzioso perché ha già del rumore suo ma tutta la parte aerodinamica pensate che fa un macello dell'accidente e col generatore eolico se anche i suoi supporti sono un po rovinati e fa rumore chi se ne frega tanto ci sono parchi eolici in posti eh assolutamente solitari in cui un po' più di rumore non conta l'importante che duri quel che deve perché smontare tutto costa un sacco quindi mentre nella vita reale poi ci saranno i costi tutti quelli con cui vi scontrerete nel mondo del lavoro nella vostro triennio di ingegneria meccanica avrete poco a che vedere coi costi e quindi comincerete a lavorare in un mondo un po' più ideale in cui l'obiettivo è solo progettare bene o verificare un progetto che sia stato fatto bene questo vi dico per quanto riguarda la parte di eh costruzione di macchine perché è quella di cui io mi occupo allora prima che arrivi il nostro filmato che ho obbligato il povero professor Ubertalli andare a venire dal suo ufficio perché io non ce l'avevo non non immaginavo di dovermelo portare ci sono domande da parte vostra ecco che cosa pensate di trovare in questo mondo politecnico che come ingresso è molto accattivante poi vi massacrano un pochettino avete delle domande delle curiosità ancora prima di andare a vedere il filmato ecco perché vi 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 siete fermati a ingegneria meccanica piuttosto che a un'altra ingegneria avete qualche qualche idea del perché perché siete appassionati di moto di auto da sempre perché volete andare a lavorare in Ferrari e perché no allora io avevo incontrato una riunione in Ferrari un giovane ingegnere che era stato mio allievo si era laureato con me gloriosamente era andato a lavorare non in Ferrari Corse però a Maranello in Ferrari e dopo due anni voleva andarsene e gli ho detto ma mi scusi lei era quello che voleva fare ma come dopo due anni vuole andarsene mi ha guardato e mi fa beh erano le sette di sera adesso lei torna a Torino sì certo sono le sette di sera sarà il caso bene noi cominciamo le riunioni sì perché la gente ovviamente queste aziende così così belle perché uno va e si innamora chiaro però poi pensano che uno effettivamente vada lì a a vivere per loro quindi perché no in Ferrari altre altre passioni ecco voi da che da che scuole venite lei chi è che fa ha fatto il liceo classico vediamo i pochi del liceo classico c'è qualcuno che ha fatto il liceo classico no liceo scientifico a maggior parte liceo scientifico altri liceo linguistico altri istituti tecnici lei ha fatto tecnico industriale meccanico lei a costruzione aeronautica ok allora beh direi che il liceo scientifico va bene va benissimo ovviamente chi ha fatto un istituto tecnico all'inizio sarà sarà sicuramente avvantaggiato che ha fatto un istituto tecnico deve poi non andare troppo sulle cose che sa immaginare di per certi versi di fare tabula rasa e ripartire del zero però all'inizio chiaramente gioca in casa quindi ovviamente mi dica matematica allora il problema poi rispondo alla signorina che ha alzato la mano allora il primo anno come sapete uguale per tutti devo dire che adesso oggi oggi parlo degli ultimi anni sicuramente anche tutte le analisi sono molto ben organizzate avete dei corsi eh di supporto eh l'unica cosa è non bisogna partire subito cioè non perdere neanche un'ora ecco quello sì subito come ecco come a scuola come al liceo cioè Politecnico cioè Politecnico organizzato in questo modo lezioni esercitazioni lezioni esercitazioni come in liceo ecco questo non dovete perdere il il passo mi stava chiedendo signorina una cosa sì sì certo certo allora la domanda è interessantissima è perfettamente azzeccata ed è le rispondo quello che dico sempre è forse la prima lezione ai elementi costruttivi ai miei allievi esattamente quello che dice la signorina qual è visto che lei ha già dei concetti eh chiare il progetto la verifica dell'elemento di macchine l'albero il cuscinetto sono tutti oggetti che lei conosce che differenza c'è fra quello che imparate a scuola eh scuola superiore all'università allora alla scuola superiore vi dice vi viene detto come si fa quindi voi fate questo e lo fate così a bici e si impara a fare qual è è sbagliato no è giustissimo qual è il limite il limite è che ovviamente siccome siete studenti non ancora all'università non vi sono stati detti i casi in cui quello che state facendo non è valido quindi all'università cosa si fa si eh non si fa una cosa ma si va a capire perché la si fa e soprattutto si ha una preparazione a trecentosessanta gradi cioè quel modello quella formula che avete usato tra virgolette perdonatemi pedestramente eh nell'istituto superiore perché quelli erano i casi corretti da studiare con quella formula invece all'università no la si spiega e si spiegano le basi la bc si eh spiega quando viene usata quando è corretta usarla o quando il modello che state usando quindi modello matematico la formuletta per dirla in modo pedestre non si può usare perché non è corretta quindi al adesso avete fatto una cosa perché ve l'hanno detta mentre invece all'università imparate perché la fate così si va semplicemente a un gradino in più non è che si sbagli prima eh assolutamente semplicemente mettete un mattone in più alla vostra preparazione cioè capite le motivazioni di quelle teorie di quei modelli di quegli approcci e anche di quelle ipotesi semplificative che avete utilizzato mi sono spiegata prego e potete innovare adesso eh direi che innovare è una cosa adesso vediamo il filmato innovare è una cosa molto difficile perché tutti parlano di innovazione ma l'innovazione vera il brevetto la novità viene quando uno ha dentro di sé ormai nel dna il background culturale degli altri e allora lì avendo chiaro tutto come si dice da noi in ambito scientifico lo stato dell'arte avendo chiaro veramente uno capisce dov'è l'innovazione dov'è quella piccola scintilla di nuovo che di solito viene dall'esperienza dall'intuizione dalla sperimentazione perché ovviamente senza sperimentare il modello non serve a nulla qualunque modello anche il più bello il più fantastico il più raffinato se non lotariamo con i dati veri non dico che sia carta straccia ma quasi cioè un modello tira fuori dei dati per forza il problema è essere sicuri che i dati siano giusti siano corretti siano aderenti alla realtà che voi state studiando va bene io ti chiedo scusa per la corsa che ti ho fatto fare adesso allora vediamo un po il punto dove partire lo cerco io che era la lezione provate un po innesca la combustione no no questi sono gli scoppi andiamo avanti perché è un po e oltre tuttavia è importante chiarire che cosa intendiamo questa è la meccanica calda cosa intendiamo noi siamo dei freni sensibili le gise le leghe di titanica resistenza c'era prima allora del peso la partiamo e utilizzo di materiali strutturali con opportune carattere a due sette il disegno alle macchine elettriche avanti alla meccanica ai tanti ne abbiamo scelto la produzione è artigianale e le automobili avanti si unione dell'automazione e dell'avanti sulle superfici ancora un filo un filo poco un'elevata protura è poi completamente automaticamente su linea rida ossia vi sono alcune stappine sulla vettura vengono installati il quadro strumenti e la console centrale in ogni postazione di lavoro perché c'è un giovane eccolo la meccanica l'io e allineamento del per la prova sono avanti dopo l'esigenza di trasmettere il moto risale a molto tempo il volume prima applicazione edoardo gotti un mio dottorando che si è prestato a fare la registrazione un caro bussola funzionante mediante ruote a pioli in legno per quanto riguarda l'europa si può attribuire all'epoca romana l'utilizzo di ruote dentate che venivano utilizzate sia in strumenti di misura delle distanze chiamati odometri sia nell'azionamento dei muli in epoca medievale leonardo da vinci introdusse in molte delle sue invenzioni molti degli elementi tipici delle trasmissioni meccaniche attuali sono suoi infatti i primi disegni di ruote dentate di erotismi epicicloidali di cuscinetti volventi e di altri elementi oggi comuni nelle trasmissioni la modernità nei suoi schizzi di trasmissioni e scusate allora io vi racconto mentre ci sono le slide togliamo un po il l'audio pure parlo io per voi se non state qua allora magari lo fermiamo un nanosecondo se torniamo un attimo alle prime immagini ecco queste qua subito dopo i cuscinetti eccole la fermi un attimo fermiamo un attimo allora trasmissioni quindi questi sono pochi minuti sulle trasmissioni perché si parte dai disegni di leonardo perché leonardo da vinci il nostro genio infinito ha di fatto inventato tutti i componenti meccanici che noi oggi studiamo ha fatto di tutto ovviamente ma ha fatto anche i componenti meccanici se li è inventati guardate i primi cuscinetti i primi cuscinetti che permettono di fare che cosa attraverso i corpi volventi svincolare una parte in rotazione da una parte fissa e la realizzazione da in acciaio la vedete e beh l'ha fatta leonardo leonardo per primo ha disegnato la forma dell'evolvente nei denti di ingranaggio la forma dei denti di ingranaggio la via l'ha fatta leonardo leonardo si è inventato le erotismi piccicloidale e ha fatto di tutto e quindi diciamo che è doveroso secondo me parlando di trasmissione partire da leonardo magari vediamo solo i disegni solo le slide ok ovviamente nei secoli sono cambiati materiali le trasmissioni con la rivoluzione industriale sono andate via via cambiando cosa vuol dire sono cambiati materiali vi faccio vi faccio solo un un esempio un esempio stupido ma chi ha fatto un istituto tecnico non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di modulo di young o legge di hook avete sentito parlare quindi se io sono in campo lineare io tiro un elemento può essere anche un pezzo di legno io tiro e alla mia forza corrisponde un allungamento la legge lineare la l'ha inventata uno scienziato un inglese e su che cosa ha fatto le prime prove su quel che aveva adesso noi facciamo le prove con le macchine di prova il professor rubertalli si occupa è un esperto di materiali quindi la macchina di prova eccetera sì abbiamo la macchina di prova trazione qualunque materiale noi lo possiamo sottoporre a questo tipo di prova posto che abbia il provino la forma corretta che vogliono le normative ma che cosa ha usato ha usato i crini di cavallo ha usato le ossa il legno ha usato la pietra perché perché quelli erano i materiali quindi la rivoluzione industriale è passata attraverso le forme di propulsione quindi tutto quello che fa muovere i meccanismi e che leonardo da vinci non aveva il limite di leonardo è stata la propulsione perché lui da visionario ha inventato un sacco di cose e poi man mano noi andiamo avanti in questa rivoluzione non facciamo parlare fino a no 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 fermiamoci solo sulla slide precedente ecco che cosa sono le trasmissioni le trasmissioni praticamente come vedete trasferiscono il moto a che scopo o per far funzionare un qualcosa qui trasmettere potenza o ovviamente per posizionare come robottino che voi vedete qui queste sono le trasmissioni se mandiamo avanti solo le le slide le trasmissioni sono di tutti i tipi eh idrodinamica idrocinetica abbiamo un sacco di tipologie noi ci fermiamo un attimo alle trasmissioni meccaniche che sono quelle oggetto della nostra presentazione proviamo no lui parla ok questo per esempio è uno schema enorme di una trasmissione per veicolo industriale e lo schema questo è un euro cargo quindi è un veicolo pesante che ha quattro assi motori due davanti due dietro quindi a un motore allo schema di un motore poi che cosa un cambio un certo numero di marce poi a quello che hanno tutti i veicoli fuori strada quelli che hanno i trattori la classica ripartizione della coppia questo è un veicolo industriale si porta sulle spalle dietro un sacco di peso per cui noi abbiamo bisogno di più coppia dietro piuttosto che davanti e quindi c'è una bella scatola che si chiama transfer box e che di fatto un ripartitore di coppia che grazie a una particolare di disposizione di ingranaggi ci passa un terzo di coppia davanti e due terzi dietro ma siccome questo veicolo non ha solo due assi motori ma ne ha quattro è chiaro che una porzione di quella coppia se la prendono i due assi davanti e una porzione della coppia quella dietro i due terzi se la prendono i due assi dietro e quindi voi vedete che avremo ponte intermedio e ponte posteriore cosa sono un differenziale intermedio che si prende un po di coppia e l'altra parte la manda all'ultimo assale e poi i classici differenziali quelli che permettono il moto in curva e permettono quindi eh il comportamento del veicolo classico che tutti voi immagino conosciate la stessa cosa anche davanti cosa vuol dire tutto questo beh questa è una trasmissione automobilistica complicata andiamo pure avanti mi spiace perché invece di avere un giovane vi beccate me ma piuttosto che sentire tutto muto questo invece è una trasmissione per veicolo elettrico cittadino quindi un veicolo elettrico ha una trasmissione semplice quindi questo veicolo elettrico non ha solo due marce possibili e ovviamente due marce possibili cosa ci daranno ci daranno una coppia un po più alta una coppia un po più bassa realizzata attraverso ingranaggi di diversa eh diciamo di diversa dimensione di diverse caratteristiche un classico guardate sono eh tutte queste ruote per i per i per i cambi e per le trasmissioni sono tutte eh ingranaggi elicoidali perché la ruota elicoidale vedete il dente è storto serve a rendere più dolce l'ingranamento e quindi più dolce il funzionamento di questo questo è è un disegno che eh ho tirato giù da di nuovo da un progetto per la realizzazione di un veicolo elettrico quindi è un 3d di eh di questa piccola trasmissione di cui poi avevamo fatto tutta la simulazione in funzionamento eccetera andiamo pure avanti bene questa è l'autoveicolo vedete la classica trasmissione di nuovo il motore davanti in questo caso eh avremo eh una scatola cambio e poi di nuovo eh il moto ripartito tra assale tra posteriore e tra eh anteriore a sale anteriore quindi i vari tipi guardate di trasmissioni queste eh l'esempio è per farvi vedere delle trasmissioni sono sempre fatte dagli stessi elementi alberi ingranaggi cuscinetti eh supporti eh c'è l'impianto di 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 ovviamente di lubrificazione ci sono i coperchi ci sono le tenute c'è tutto dentro ma l'architettura come si dice è diversa a secondo di quale trasmissione io sto andando a realizzare andiamo pure avanti vedete queste sono classiche trasmissioni per automobili io ho già chiacchierato infatti siamo un po' forse al fondo eh meno un quarto ma comunque non sono di corsa andiamo avanti per questi sono differenziali sono spaccati di tutto direi no ci sarà stato qualcosa che ha finito terminato va bene quindi quello che vi dicevo è la trasmissione fatta sempre dagli stessi elementi cosa cambia l'architettura la dimensione i materiali i materiali la fanno da padrone perché è chiaro che se io ho un un riduttore di un elemento di sollevamento commerciale io avrò un tipo di materiale se vado a una trasmissione per aerei dove lì io gioco sul grammo ovviamente avrò dei materiali leggerissimi e avrò una cosa che se voi vedete un disegno vi può stupire io qui non l'ho messo il disegno perché questo è proprio un meccanico quindi trasmissioni e diciamo il focus era l'autoveicolo avete questi ingranaggi che sembrano tutti vuoti tutti con delle forme strane tutte leggerissimi perché perché lì effettivamente si va a fare l'economia del grammo diciamo questa è l'idea delle trasmissioni volentieri rispondo alle vostre domande e loro mi hanno già chiesto delle cose interessanti prima oh ecco sì giusto io molto volentieri mi rimetto la mascherina e do il microfono io mi presento sono Mariangela Montanaro e sono la rappresentante del corso di meccanica per questo biegno se avete qualche domanda in particolare fatemela pure la professoressa vi ha già in realtà ha spiegato tutto quindi in realtà io non saprei cos'altro cos'altro dirvi chi meglio dei professori possono spiegare il corso eh vabbè dal punto di vista dal punto di vista di una studentessa l'unica cosa che posso dirvi è che sicuramente c'è iniziare ingegneria in generale ingegneria meccanica è difficile però per rimanere in questo tema dopo aver ingranato eh la cosa è tutta è tutta più facile è tutta più semplice eh penso la la cosa più importante che si impara l'università in generale è il metodo di studio che sicuramente al liceo eh non nascondiamoci c'è la maggior parte di noi che va avanti perché ce la fa nel senso che sicuramente si studia però una volta arrivati all'università si devono fare i conti veramente con l'organizzazione con le tempistiche eh si deve fare il conto con la qualità dello studio piuttosto che la quantità eh fatemi qualche domanda veramente io sono qui a vostra disposizione qualsiasi cosa sotto che punto di vista degli impegni e ripeto una volta all'inizio vi sembra cioè per vi parlo nella mia esperienza personale all'inizio per me è stato solo studio 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 nel senso che ti rendi conto che magari ti sembra di non avere più tempo libero perché devi dare priorità ecco alla al concentrarti su quello che devi fare ecco una cosa importante è che il fatto di non esserci delle scadenze fisse tipo le interrogazioni no che ci sono al liceo magari molto spesso rispetto alle sessioni dell'università fa sembrare come se vabbè c'è tempo ho tempo di fare tutto ma in realtà non è così la costanza è una cosa davvero fondamentale importante per riuscire ad arrivare agli esami non con l'acqua non con l'acqua alla gola per riuscire a passarli insomma eh però ripeto una volta che avete ingranato in realtà alla fine la maggior parte degli studenti universitari forse fanno tantissime cose che magari al liceo non facevano cioè si riesce benissimo a conciliare l'attività sportive hobby e quant'altro con con lo studio solo una cosa il l'uso eh scusi l'uso dei eh dei semestri quindi dell'organizzazione come come qua come molte università è molto comodo perché seguite dei corsi per un semestre poi date gli esami poi seguite altri corsi e via discorrendo il problema è che la signorina non ve l'ha detto ma è che avete quattro appelli in pochi giorni non volevo rovinargli la sorpresa no in realtà sì abbiamo forse una delle pecche diciamo del Politecnico di Torino è che abbiamo quattro appelli all'anno e ovviamente il rischio è che non passando poi un esame si vadano ad accavallare con gli altri però bisogna far sempre affidamento su questi quattro appelli da quest'anno in realtà sono stati aggiunti due appelli straordinari uno in sessione invernale e uno in sessione estiva però dedicati solo agli studenti che hanno seguito tutti i corsi quando vi scriverete per dirvela breve vi accorgerete che dal libretto ci sono i crediti frequentati i crediti da frequentare quando avrete eh seguito tutte le lezioni e quindi avrete tutti i crediti frequentati ci sono a disposizione questi due due appelli due appelli straordinari ci sono sì allora per semestre se per il semestre invernale ci sono due appelli per le materie invernali poi un appello estivo e un appello a settembre la situazione è switchata per la sessione estiva cioè per gli esami che si frequentano nella sessione nella sessione estiva ci sono due appelli per la sessione estiva uno a settembre ed uno a gennaio se non c'è altro penso che possiamo anche lasciarli liberi grazie a voi